Presidente, dopo essere passati in vantaggio, qualche difficoltà nel primo tempo, però poi nel secondo vi siete ripresi, è una vittoria più che meritata. Sì, la squadra ha fatto molto bene, dimostrando di essere in grado di reagire psicologicamente nei momenti di difficoltà. Io volevo solo... approfitto proprio per complimentarmi con i ragazzi che hanno giocato un'ottima partita, dimostrando veramente sul campo di meritare questa vittoria. E anche ovviamente al mister che ha condotto bene tutta la squadra alla vittoria. Quindi io voglio solo fare questi miei complimenti, poi sentirete loro direttamente per quanto riguarda i dettagli. La soddisfazione mia è di vedere in casa per la seconda volta un Cittadella Caparbio. Delle giocate veramente che meritano i palcoscenici anche di categorie superiori, per cui anche il pubblico penso che sia soddisfatto. E questo è un po' quello che alla fine è lo scopo che ci eravamo prefissi, divertire il pubblico, vedere grandi partite, una buona dose di emozioni come è successo oggi, come è successo anche nella partita precedente, qui in casa è il tombolato. Quindi chi viene qua e ha fatto l'abbonamento penso trovi soddisfazione. Sì, volevamo superare il numero dello scorso anno e ci siamo riusciti, quindi tutto sommato io sono soddisfatto. Vedremo poi per il prossimo anno, sicuramente se avessimo già definito tutto nei dettagli per la parte rivelativa alla copertura, probabilmente avremo ottenuto qualcosa di più e sarà qualcosa di cui sfrutteremo meglio nel corso di quest'anno e sicuramente per il prossimo anno. Quindi si pensa alla copertura? Stiamo discutendo col comune costantemente e ormai direi che adesso abbiamo un consiglio in questa settimana anche all'interno della S-Cittadella e prenderemo poi la decisione finale proprio subito nel consiglio. Sono ottimista comunque.